Chiediamo giustizia senza volere altro da Eni che non sia il risanamento ambientale di la ristoro dei danni che ha causato a questa città. Lo chiediamo a nome di tutta la città. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela interviene in merito all'apertura del processo per disastro ambientale nominato, la cui prima udienza ieri al Tribunale è stata rinviata per assenza del giudice nominato. L'accusa della Procura è quella che chi ha gestito a diversi livelli la raffineria ha inquinato l'aria, le falde acquifere, il suolo e il mare determinando un disastro ambientale di proporzioni in mani. Ieri Leni si è presentata con i suoi avvocati, tutto a porte chiuse dietro le vetrate del Tribunale. Fuori la città sconosceva quello che stava accadendo, rimarcano Grillini. Non sapeva che per la prima volta nella storia di Gela il colosso petrolifero veniva accusato di un reato di gravissima portata. E non lo sapeva perché l'amministrazione è rimasta silente e scomparsa nel buio senza rilasciare neanche una dichiarazione. Non ha parlato alle famiglie che vivono il dramma dei malati di tumore. Non ha detto nulla agli agricoltori che vedono i campi devastati dagli inquinanti. Non ha alzato la voce contro coloro i quali hanno presumibilmente devastato l'intero territorio giarese. L'amministrazione silente si è costituita parte civile ma quello era il minimo davanti ad un processo che è di portata epocale. La città, dicono i pentastellati, deve sapere quello di cui sono accusati i vertici della raffineria. Lo deve sapere per capire che accettare il lavoro senza pensare alla salute significa uccidere tutti per generazioni. Il ricatto occupazionale ci ha portato ad avere discariche di idrocarburi a cielo aperto, sversamenti in mare, falde e inquinate. Ma non è vero che è meglio morire di cancro che di fame perché il cancro ti divora lento mentre la rischio di avere fame ti spinge a vivere, a trovare soluzioni che riportino in vita il territorio. E mentre noi chiediamo giustizia continua la nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle mentre la raffineria è sotto processo a Gela l'amministrazione comunale, anziché sollevare un caso mediatico per questo processo si siede al tavolo con Eni e sottoscrive proprio con Eni una lettera di intenti per avviare un tavolo tecnico affinché, dove oggi sorgono i ruderi di un disastro passato possano sorgere i presupposti per un nuovo investimento industriale forse anche per un nuovo disastro un bel sistema di liquifazione del GNL in accordo con la stessa azienda che, secondo la procura, si regge nella nota ci ha devastati certe scelte sono segnali, sono azioni che indicano quanto l'amministrazione tenga davvero al futuro dei propri cittadini noi non ci stiamo il Movimento 5 Stelle vuole un futuro nuovo e diverso per Gela non crede alle fantasiose proposte del vice sindaco alla sua GNL senza bonifiche concrete ai accordi continui con chi ci ha offeso Gela ha iniziato la sua battaglia contro un colosso che, secondo gli atti degli inquirenti, l'ha avvelenata e i cittadini devono saperlo l'amministrazione, invece, continua a sottoscrivere fantasiosi e improbabili accordi con quel colosso ed anche questo deve essere messo a conoscenza dei cittadini chiudono i pentastellati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti